Torna a Pescara la seconda edizione del Murap Festival, muri per l'arte pubblica, che vedrà protagonista l'arte dei murales, coinvolgendo anche i giovani del quartiere Rancitelli. Il Murap Festival è stato presentato in comune a Pescara, tra gli altri dal sindaco Carlo Masci e dal direttore artistico Sandro Sonsini. Grazie ad artisti del settore si proseguirà con l'opera dei murales sui piloni dell'asse attrezzato, ma il progetto riguarderà anche la zona di Rancitelli, coinvolgendo nella colorata iniziativa diversi ragazzi, in particolare coloro che stanno attraversando un periodo di disagio sociale. L'intervento di quest'anno è incentrato sulla street art, riconfermando allo stesso tempo un processo evolutivo, sia l'impostazione della prima edizione, che partner sostenitori del Festival, la fondazione Aria, con il suo presidente Maria Nacci e il comune di Pescara, il direttore artistico Sandro Sonsini. Allora, intanto la seconda edizione di Murap Festival, che abbiamo cominciato lo scorso anno, quest'anno proseguiamo più o meno con la stessa impostazione, interveniamo su due aree della città, sui piloni dell'asse attrezzato, completando il lavoro che abbiamo iniziato lo scorso anno, e sul quartiere Rancitelli. Sui piloni abbiamo chiamato un artista particolarmente importante, che si chiama Pita, che ha questa tecnica pittorica che tende a rompere, distruggere le superfici, anticipando in un certo senso il sogno di vedere questa città liberata da questa invadente infrastruttura. Invece a Rancitelli intervengono altri artisti, facciamo due murali, quello più grande lo realizza Tellas, in collaborazione con Due Bilen, un'artista portoricana, e quello più piccolo lo fa un giovanissimo artista abruzzese, Samuele Romano, che ha questa capacità di dipingere in maniera impeccabile delle grandi api. Ma la cosa importante è che quest'anno a Rancitelli attiviamo per la prima volta una partecipazione creativa, perché realizziamo con gli abitanti del quartiere 26 formelle che inseriremo nel lavoro di riqualificazione urbana. Riqualificazione urbana e anche riqualificazione sociale? Assolutamente sì. Questa combinazione tra arte pubblica, riqualificazione urbana e partecipazione creativa ha come obiettivo quello di provare a dare un contributo sul fronte della rigenerazione sociale.